ciao ciao amici sono il carletto qua c'è sempre il raffa continuano oggi queste recensioni in mezzo alla natura sotto il sole in questa cosa assurda di andare a fare 12 cavalieri d'oro così volevano farli col sole battente ma ci hanno fregato le nuvole quindi non c'è più questo sole battente quindi l'armatura non dà proprio quell'effetto di sole che brilla l'oro e quindi ci dobbiamo accontentare così perché non le rifacciamo mai una volta che ci decidiamo le facciamo abbiamo fatto anche una mezza recensione con la pioggia figuratevi comunque questo è il mio canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi lo potete fare cliccando in alto il mio canale iscriviti o se no alla fine del video viene sempre un'anticipazione di un altro video o la mia faccina col guanto titano cliccate lì sopra e fate iscriviti ora è il momento di andare a recensire colui che faceva la galaxian esplosio lui era cattivo no cattivino dai era anche forse più scarso di tutti no dicono che fosse il cavaliere d'oro più forte perché lo dice esplicitamente in sol of gold dicono che lui è il più forte di tutti ma io non di questo non ne sono tanto sicuro perché a me mi stava sulle balle a me non mi piace mai dire la verità e quindi comunque stiamo parlando di gemelli saga di gemini eccolo qua questo qua il suo box di saga di gemini vedete e che dire lo andremo come sempre a unboxare a vedere bene nel dettaglio e lo confronteremo fai vedere con il vecchio classico di raffaele però ricordate che il classico vecchio aveva anche ade scusa aveva la versione del trono esatto lui vestito con la persona d'arles d'arles dal sommo sacerdote col suo elmo si è venuto adesso così ragazzi siamo anche ubriachi di recensioni però è bello anche così perché questa è la grande passione che ci lega allora andiamolo a unboxare che questa è una passione mitica e spero che mi segui seguiate in tanti state a seguirmi che ci divertiamo andiamolo a unboxare vediamo le differenze e tutto quello che c'è all'interno eccoci qua farlocchissimi amicissimi sapete che scherzo sempre però andiamo veloci ambressa ambressa che sono qua le recensioni durano troppo questo è il librettino streaming sito di due pagine di vediamo qua di di saga di saga il cavaliere di gemini questo simbolo del gemelli all'interno qua troviamo come andare amo un fogliettino che ci spiega come andare a montare la galaxia l'effetto della galaxia esplosione che ve la facciamo vedere subito perché abbiamo deciso di non andare a montare perché tanto la vedete bene così l'effetto dell'esplosione galattica il suo colpo omicidiale vediamo qua nessuno poteva tenerli testa quando lui faceva questo colpo diabolico 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 avete sentito qua partono quelle povere quaglie che non tengono a scappare conigli cosa sono ma ragazzi è un incessante fucilamento continuo qua non so dove cavolo siamo finiti nella la gara mezza la gara di caccia qua comunque questo qua vedete è il totem dove anzi la base del totem come dico sempre dove noi gli andiamo applicare pezzi dell'armatura per comporre il totem del gemelli poi queste qua sono le capigliature e i volti e guarda caso un ragno ha deciso di fare capolinea dov'è guardate un bel ragnetto cacchio qua ci voleva qua durante le recensioni di spiderman e invece c'è capitato durante quelle di saga comunque queste sono le capigliature queste sono le mani e questi sono i volti che sono le cose che vanno più viste secondo me nel dettaglio bene perché sono quella cosa in più vedete anche il ragnetto ve lo faccio vedere nel dettaglio vedete ragno octopus di famiglia realus comunque cane lo soffiato via ma non abbandona la zona qua delle recensioni allora partiamo a vedere vedere prima come sempre i gemelli di questa recensione che l'ex vedete qua gli ho messo il volto demoniaco guardate qua la parte malvagia di arles che fa su il cavaliere del gemelli scusate ma quando c'è passione si improvvisa e si fanno così le recensioni perché quello che dico sempre sono recensioni fatte dalla profonda passione per il collezionismo di questi oggetti guardate come è fatto bene il cavaliere del gemelli ve lo faccio vedere bene 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 in questa versione ex guardate che bella veramente anche la capigliatura grigia gli occhi guardate indemoniati il viso fatto così come bello anche il laterale qua dell'armatura vediamo stiamo attenti a non perdere pezzi qua c'è un difetto vedete difetto di fabbrica ragazzi guardate qua c'è una parte dell'armatura scolorita sia di là che di qua del gambale di plastica perché questa parte finale di plastica del gambale raffa vieni qua ecco qua tu gli hai messo a non vi ho fatto vedere l'elmo perché io a lui glielo tengo così in mano comunque andiamo a vedere le differenze che anche qua sono sostanzialmente parentesi gigantesche cosa stai facendo sali un po mettilo a fianco del mio bravo così l'inquadratura è perfetta e gli amici possono capire di cosa stiamo parlando allora mentre qua è tutto un colore qua c'è una doppia colorazione qua il rilievo è più alto qua è meno alto differenza qua cambiano completamente i gambali anche i disegni sui gambali vedete sui gambali cambiano proprio completamente i disegni sapete cos'è che quando non si hanno proprio a fan a fianco un classico un classico un ex non si può non si vede così tanto la differenza quando li hai in mano tutti e due invece ti accorgi delle notevoli differenze parentesi guardate qua il pettorale completamente diverso questo è un pezzo unico invece qua è disegnata la parte questa qua nella parte in plastica all'interno che si mette tra la vita il busto quella che ci hanno tutti gli ex per coprire il busto magrolino perché hanno tutti gli ex a differenza dei classici un busto più magrolino e striminzito e poi che dire il viso di saga questo è quello malvagio questo invece quello di saga diciamo normale buono è messo quella di saga buono perché se lo giro i capelli sono blu sono blu mentre io ho messo apposta per farvi vedere i capelli grigi della parte demonica è diventato pelato ha perso all'istante ragazzi tutti i capelli poverino gli deve essere andata quella schiuma depilante per qualche istante aveva perso tutti i capelli poi con queste ultime ritrovamenti della tecnologia gli ha fatto un trapianto e gli sono tornati sui capelli azzurri ecco questo qua è l'elmo ragazzi siamo al ridosso di un fiume se mi finisce giù è andato diventa un loose guardate questo è l'elmo curato veramente bene e che dire dai l'abbiamo visto bene in tutto e per tutto fa vedere forse la parte qua laterale che anche lì cambia notevolmente eh sì eh sì ragazzi tanti sono completamente dei prodotti differenti però sempre ritorna quel fatto che costano meno e comunque in vetrina non sono da buttare fanno comunque sia la loro bella figura si guarda l'acquisto sempre in base alle proprie tasche se uno qualche soldino da spendere più sicuramente deve andare sugli ex se uno non ha tanti soldini può andare tranquillamente sui classici perché comunque sia non sono poi così malvagi eccoci qua amici con saga di gemini e vedete quella nuvola nera che arriva come il terrore più assoluto di arles il diabolico arles vedete guarda come sta bene ho mai visto come sta bene quando arriva qua davanti il arles diabolico con dietro la nuvola eccezionale dai era carina fare la recensione che ce ne sono a milioni amici in giro dei cavalieri d'oro in maniera un po' differente abbiamo pensato oggi di farle così comunque vi facciamo vedere bene il cavaliere lo facciamo vedere in una location dove sicuramente non l'avete mai visto vi facciamo vedere il confronto bene tra l'ex e il classico come penso non avete visto bene bene dettagliato così comunque penso che tutto sommato siano delle recensioni fatte dignitosamente bene carine vedo che gemini va sempre più in avanti il mio gemini e tengo la mano perché di là c'è un fiume ecco il mio gemini stranamente si inizia a piegare un po in avanti cavolo adesso qua finisce nel fiume e annega se fosse stata la parte fosse stato così facile i bronzini li mettevano una piscina ci devono annegando e guarda guadagnato più di undici ore forze anzi terza ora e no 9 9 ora voglio far valere la salvavano subito e finiva che veniva la la baradam non arrivavano neanche alle case successive no no usavo arrivavano direttamente dredicesima senza combattere nessuno e tranquillamente usavano le scatenate d'emergenza di quella di fiscia arrivavano usato dai andiamo a concludere amici che le abbiamo visti bene anche questi qua nel dettaglio amici giunge al termine anche la recensione di questo saga il cavaliere di gemini d'oro in versione x e l'abbiamo anche questa volta paragonato con il classico abbiamo visto bene tutte le differenze mi è volato l'elmo vedete adesso c'ho l'elmo bucato mi manca un pezzo non riesco più a trovarlo questo è il rischio per queste recensioni pazze in mezzo alla natura che siamo al di sopra di un fiumiciattolo quindi è volato nel fiume e l'elmo di gemini se n'è andato e lo troveremo in giro nei mercatini comunque va bene anche così non bisogna mai prendersela ma lo ritroveremo ritroveremo l'elmo di gemini qua raffa già preso le che lui ha sempre fatto sub l'attrezzatura ci mette nel fiume alla ricerca del del pezzo perduto amici come dico sempre se vi è piaciuta la recensione mi raccomando like al video se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale potete cliccare sopra il mio canale iscriviti adesso in una di quelle palline che esce di qua o di là non lo so dove uscirà la faccia a caso e vediamo basta che cliccate lì sulla mia faccia col guante iscriviti e vi potete iscrivervi quindi seguitemi iscrivetevi seguitemi anzi iscrivetevi e che dire alla prossima recensione un saluto dal carletto e dal raffa ciao a tutti ciao ciao ciao